Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Rock Wayne, benvenuti a un altro mio unboxing e come vedete anche questa volta il pacco che abbiamo qui davanti è veramente enorme, è veramente una bestia forse addirittura questo scatolo è nettamente più grande del penultimo unboxing che ho postato quindi prima di scoprire cosa si cela qui dentro volevo dedicare questo unboxing a Manuel Manuel che è bravissimo, è un bravissimo youtuber che gestisce il canale 8bit quindi vi raccomando naturalmente anche il suo canale perché è un canale bellissimo sa intrattenere bene, è molto divertente quindi ve lo consiglio senz'altro ma dedico questo unboxing a lui perché qui dentro ci sono alcune cose, alcune action figure essendo che io mi occupo del collezionismo di action figure qui dentro ci sono delle action figure vintage e altre che possono non etichettarsi come vintage lo dedico a lui questo unboxing perché essendo che ultimamente anche lui si è avvicinato al mondo del collezionismo di action figure vintage ho notato che ha dei problemini ad accoppiare questo termine con alcune action figure che realmente non sono o meglio non si possono definire nettamente vintage quindi Manuel non pensare che questo video sia una predica io non mi sento in grado di fare prediche a nessuno perché non sono né professore né niente però chi mi conosce bene da tanti anni sa che sono abbastanza infarinato con le action figure vintage è un po' il mio pane quotidiano come si dice quindi spero solo di saper ti dare qualche piccola informazione in più, tutto qua e quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo a scoprire dentro questo pacco cosa si cela cosa ho acquistato questa volta allora iniziamo questo è Guido voi sapete mi piace un pochettino ironizzare sui nomi dei utensili che servono ad aprire questi pacchi ricordo sempre con affetto Ara che naturalmente lui ha iniziato a dare i nomignoli ha i suoi oggetti da taglio per i pacchi e quindi ogni tanto mi piace ironizzare su questo quindi questo è Guido detto il giallo naturalmente in questo unboxing non si trova una selection figure non se ne trovano due non se ne trovano tre ma se ne trovano davvero un bel po' e spero che vi piacciono perché sinceramente quello che c'è all'interno è veramente per me qualcosa di meraviglioso collezionisticamente in campo di action figure per me qui dentro c'è davvero un tesoro e allora devo dire che il venditore me lo ha incartato bene ok allora e allora iniziamo allora da dove inizio da dove inizio ma da dove inizio veramente amici amici ci sono così tante rarità che non so da dove iniziare prima allora vabbè iniziamo da questo grande dai anzi no ok inizio da questo che non credo che tutti lo possano conoscere anche perché non è una rarità e allora amici questa come vedete è una semplice action figure ninja è una action figure ninja appunto si chiama action ninja è una action figure realizzata dalla C.P.Ratti che è stata una storica casa produttrice di giocattoli italiana e questa action figure risale al mille perdonatemi al 1983 adesso vi ingrandisco vedete ora questa naturalmente non è un supereroe non è un Batman non è un Superman neanche si tratta di una tartaruga ninja è una semplice action figure appunto ispirata a un ninja qualsiasi l'ho comprata perché questa action figure esattamente questa action figure per me è molto importante perché l'avevo da bambino mi ricorda molto quando mia mamma me l'ha regalata io ero piccolissimo è stata una delle mie prime è stato in assoluto uno dei miei primi giocattoli che che ho avuto avevo qualche 3-4 anni perché appunto questa action figure è dell'83 io sono nato nell'85 quindi già esisteva però io l'ho avuta sì già avevo qualche 3-4 anni non di più quindi per me è molto importante perché mi ricordo quando ci giocavo e soprattutto mi ricordo che me l'ha che me l'ha regalata mia mamma quindi soprattutto per questo volevo riavere tra le mani questo questo bel ricordo e quindi infatti addirittura vedete di dietro non non c'è nulla ripeto è soltanto una action figure semplice l'unica cosa importante di questa action figure è che è di marca italiana quindi è un giocattolo italiano e diciamo che i prodotti italiani nel mondo del collezionismo sono sempre molto ben accettati sono abbastanza valutati diciamo allora continuiamo guardate qui che abbiamo amici miei non ci credo questa è una bellissima action figure direttamente dal cartoon i 5 samurai naturalmente questa action figure è stata prodotta dalla takara distribuita da noi in italia dalla jig nel 1990 se non sbaglio sì nel 90 per chi non conoscesse i 5 samurai appunto si tratta di un anime giapponese che appunto nei primi anni 90 in italia anche da noi in italia fece un boom fece un enorme successo e benché abbastanza successo anche in paesi come Francia e America ma naturalmente l'enorme successo lo ha avuto in Giappone e in Cina e anche da noi l'Italia appunto ancora porta i segni di quell'enorme successo che questo cartoon da noi ebbe e io me li ricordo con tanta nostalgia e con tanto amore questi personaggi e qui ho trovato ho avuto la fortuna di trovare Kimo Kimo è uno dei credo che sia uno dei personaggi più belli dei 5 samurai appunto uno dei personaggi buoni più belli dei 5 samurai anche perché da bambino non l'ho mai avuto l'ho sempre desiderato quindi trovarlo nuovo ad un prezzo soprattutto abbastanza molto molto vantaggioso per me è qualcosa di meraviglioso io non vi apro perché qua si può sbirciare ma non vi apro nulla perché vi mostrerò il contenuto appunto nella recensione apposita che farò in futuro e qui voglio iniziare appunto a dedicare a Manuel questa prima action figure perché mi ha fatto molto tenerezza il fatto che la moglie di Manuel ricordasse i 5 samurai e quindi già questo è un motivo in più per citarlo quindi vedi Manuel questi erano i 5 samurai non so se te li ricordi non so se li conosci ma appunto come ho notato non neanche sapevi chi fossero però ti consiglio di documentarti perché era un cartoon davvero meraviglioso e i giocattoli di allora erano veramente dei gioielli e oggi sono considerati tali andiamo qua ecco qui amici come potevo non prenderlo dopo che appunto di recente ho trovato la mummia e il lupo mannaro della serie appunto The Real Ghostbusters ho trovato anche Dracula ho trovato appunto anche Dracula per la serie I Mostri quindi Manuel questo ninja della Cepiratti Kimo dei 5 samurai e questo bellissimo Dracula dei Real Ghostbusters si possono definire action figure vintage al 100% andiamo avanti andiamo qui ok guardate qui che meraviglia amici ok qui abbiamo dinanzi a noi un mitico personaggio dei cavalieri dello zodiaco i mitici Senseia e questa action figure è della serie appunto Senseia Meat Cloth quindi questa action figure prodotta da Bandai non si può definire vintage quindi Manuel questa anche se è un action figure ispirata a un a un anime giapponese sia a un manga che a un anime giapponese del 1988 però questa action figure è stata realizzata nei primi del 2000 quindi è un po' un rifacimento della versione vintage che fu prodotta dalla Bandai negli anni 90 questo personaggio appunto per chi lo conosce è appunto il cavaliere di Sea Dragon quindi drago del mare dragone del mare è uno dei generali se non sbaglio di Nettuno qui possiamo aprire qui vedete due personaggi perché c'è appunto il personaggio in questione in abiti diciamoli civili borghesi questo invece è il suo corpo da vestire con l'armatura e la testa naturalmente si può intercambiare perché hanno due facce anche se sono lo stesso personaggio però questo volto si inserisce nel casco perché per chi conosce appunto questo personaggio sa bene vedete come è riportato qui che lui si presentava così con questa specie di ombra nera sugli occhi vedete e qua appunto è stato riportato così vedete un secondo ve lo ingrandisco ecco qui invece ha il suo volto con i suoi abiti addirittura c'è questa giacchetta in stoffa davvero fantastico andiamo avanti con le rarità tanto ormai si vede guardate qua che c'è anche se la confezione è un po' vecchiotta è mal ridotta qui abbiamo una stupenda action figure di Hulk prodotta dalla Toy Beads quindi Manuel questa è un action figure vintage è vintage perché non perché sia del 96 ma perché di questa serie non ne hanno prodotto non ne hanno prodotte mai più quindi la più antica è senz'altro questa nel 96 la Toy Beads ha realizzato amici miei una serie appunto di action figure dedicata al personaggio di Hulk chiamata appunto The Incredible Hulk era una serie di action figure davvero rare e difficili da trovare e senz'altro la migliore è questa dove si trova appunto Hulk e Bruce Banner che si sta appunto per trasformare e si può inserire addirittura all'interno del corpo di Hulk infatti questa versione si chiama Savage Hulk transformation transforming action scusate vedete qua c'è il gimmick che il personaggio si può inserire all'interno del corpo di Hulk davvero fantastico questa era la questa è un'altra serie questa era appunto la scaletta principale di questa serie The Incredible Hulk che poi l'anno dopo si unì all'altra serie che si chiamava Hulk Smash and Crash che era presa appunto da una serie animata che arrivò da noi nel 2000 dove a cantare la sigla di quel cartoon dedicato a Hulk era appunto Giorgio Vanni comunque ritornando alla nostra action figure questa è senz'altro amici una delle più belle action figure prodotte per il personaggio di Hulk è veramente bellissima guardate il personaggio di Bruce Banner com'è bello Hulk è realizzato in gomma semi morbida veramente bellissimo andiamo avanti ci spostiamo adesso si queste sono buttate un po' dall'altro lato allora andiamo qua questo per questa action figure devo ringraziare i mitici li prendi che saluto veramente con affetto anche perché non li sento da un po' di tempo perché noi spesso ci sentiamo su whatsapp e colgo l'occasione per salutare tutti i miei amici più intimi che sento su whatsapp perché per il momento ho problemi sul mio cellulare quindi disgraziatamente per il momento non li posso sentire sono un po' chiuso quindi approfitto di questa occasione per salutarli di cuore e spero al più presto di poterci sentire e fare le nostre bellissime chiacchierate quindi saluto a tutti i miei amici su whatsapp compresi i liprandi che qui c'entrano perché voglio mandare un enorme salutone ai liprandi perché loro sono dei maestri dell'action figure vintage senz'altro ed è grazie a loro che io ho conosciuto questa serie di action figure come vedete qui abbiamo la scritta polis academy naturalmente questa serie di action figure si ispira al cartone realizzato appunto per scuola di polizia i mitici film appunto anni 80 e 90 che sono stati realizzati appunto a quell'epoca della mitica serie appunto scuola di polizia e chi è del 90 diciamo e chi ha vissuto negli anni 90 come me sa bene che di pomeriggio trasmettevano su il mitico cartone animato scuola di polizia per realizzare questa serie di action figure la Kenner si è ispirata proprio alla serie animata qui abbiamo il personaggio di Zed quindi il personaggio quello un po' più strambo e pazzo veramente bellissimo che tra l'altro davvero amici trovare questa serie di action figure in Italia è veramente difficile io ho trovato tutte queste action figure da un venditore italiano che se volete ve lo potrò dire in privato e trovare anche una sola action figure di questa serie in Italia è veramente raro è davvero rarissimo poi l'ho trovato a un prezzo davvero regalato solo 14 euro perché queste action figure appunto non spesso si trovano in Europa si trovano quasi solo in America e hanno dei prezzi abbastanza elevati comunque sono contento di aver trovato almeno il primo pezzo di questa serie di action figure andiamo avanti mamma mia questo unboxing non finisce mai e allora qui abbiamo questa stupenda action figure di J. Jonah Jameson appunto il mitico personaggio del mondo dei fumetti dell'uomo ragno questa stupenda action figure di J. Jonah Jameson conosciuto anche come JJ viene appunto presa dal mitico film dal primo film chiamato Spider-Man appunto dal primo film prodotto con la regia di Sam Raimi Sam Raimi e qui appunto abbiamo JJ il direttore appunto di questo giornale qui ha tantissimi accessori addirittura una scrivania con la sedia qui addirittura appunto abbiamo l'immagine di come si presenta fuori dalla confezione addirittura da pugni vedete sulla scrivania i suoi accessori vedete iniziano a ballare come quasi quasi si muovessero per riflesso del suo pugno sul tavolo quindi è qualcosa di davvero eccezionale proprio quest'action figure di Jonah Jansson appartiene alla serie 1 ed è stata realizzata anche questa dalla mitica e grande Toy Beads appunto nel 2002 in occasione appunto dell'uscita del primo film di Sam Raimi qui vediamo il logo qui leggiamo il logo giochi preziosi perché appunto in Italia queste action figure erano distribuite dalla Giochi Preziosi veramente una confezione straordinaria molto ben curata bellissima qui abbiamo la checklist disponibile della prima serie veramente fantastica Manuel questa action figure così come tutta la serie per il momento non si può definire una action figure o una serie di action figure vintage per il momento no è una serie ancora troppo recente e troppo nuova per definirsi per etichettarsi vintage e qui abbiamo The Magician The Magician appunto era un cartoon del 1998 trasmesso anche da noi qui in Italia appunto in quell'epoca io lo vedevo con piacere non ho visto tutta la serie ma mi piaceva veramente tanto mi piaceva appunto molto il personaggio principale quindi il mago The Magician e questa è una una rara versione deluxe di Magician ve lo mostro un po' più da vicino scusate ecco guardate com'è bello qui addirittura ha un effetto luminoso davvero fantastico vedete meccanismo con azione meccanica basta posizionare appunto il suo bastone magico sul retro e appariranno appunto per magia delle delle luci sulle mani di Magician è stata realizzata dalla giochi preziosi quindi si tratta di giocattoli italiani davvero davvero ben fatti e ben realizzati Manuel questa serie di action figure si può definire vintage finiamo davvero col botto guardate amici miei qua che cosa abbiamo qui abbiamo questa bellissima action figure direttamente dal mitico mondo dei pirati dei caraibi ed esattamente dal mitico film dei pirati dei caraibi Dead Man's Chest qui abbiamo l'action figure di Jack Sparrow questa stupenda action figure alta ben 16 cm e sottolineo 16 cm realizzata dalla Zigli spero si pronunci così perché sinceramente non conosco bene questa casa so solo chi ha realizzato queste stupende meravigliose action figure dei pirati dei caraibi la Zigli ha realizzato anche una serie sempre dei pirati dei caraibi però alta davvero credo meno di 10 cm che per me sono dei veri e propri aborti è vero che anche questa serie alta sui 16 cm diciamo come aspetto come design mostra dell'action figure mostra i personaggi in un design molto giocattoloso molto appunto vintage però devo dire la verità è questo proprio è questo aspetto proprio così giocattoloso che mi ha colpito di queste action figure quindi non potevo farmi scappare questo bellissimo Jack Sparrow che tra l'altro trovo abbastanza somigliante con con il mitico e grande Johnny Depp e questa action figure ha anche un meccanismo action vedete con la spada quindi può dare colpi di spada davvero bellissimo e oltre a trovare questa stupenda action figure di Jack Sparrow appunto per questa serie di 16 centimetri prodotta dalla Zigli ho trovato anche il cattivo principale della saga dei pirati dei caraibi che è appunto Danny Jones Davy Jones guardate com'è bella com'è stupenda questa action figure ragazzi ve lo giuro è veramente pesante sono action figure grandi e pesanti quindi non solo sono alte 16 centimetri che è una altezza abbastanza veramente soddisfacente per un collezionista ma sono anche realizzate in una plastica molto pesante che gli dà anche una certa importanza guardate un po' i dettagli guardate com'è bella questa action figure di Davy Jones anche lui ha un gimmick qui può attaccare può fare un colpo con la può scagliare un colpo con la sua chela guardate che enorme la sua chela fantastico amici veramente fantastico ed ecco qua amici tutto il mio bottino riunito tutto in una volta veramente è uno spettacolo un'ultima cosa vi volevo dire ragazzi come avete visto tutte queste action figure io ho avuto la fortuna di trovarle nuove ed è la stessa cosa che dico anche a Manuel tutte queste action figure vintage più o meno tranne appunto qualcuno ma la maggioranza sono vintage ho avuto la fortuna di trovarle nuove chiuse in blister quindi in ottimo stato nonostante alcuni abbiano già i suoi 20 e 15 anni quindi volevo dirvi questo se potete trovare delle action figure di che abbiano già alle spalle tanti anni in condizioni accettabili usati ma pari al nuovo o addirittura chiusi in blister come nel mio caso vi consiglio appunto di trovarli in queste condizioni perché sinceramente spendere soldi per action figure incomplete o in condizioni quasi pessime sinceramente per quanto mi mi riguarda sono soldi buttati quindi se volete cercare volete collezionare action figure vintage vi consiglio di spendere qualche euro in più ma vi assicuro che sono tutti soldi ben investiti perché investire su action figure di un'epoca che quasi non esiste più appunto come quelle degli anni 90 di scuola di polizia o i 5 samurai o queste di Hulk sinceramente sono action figure che negli anni acquisteranno un valore collezionistico molto molto alto quindi sono quasi tutti i soldi investiti e quindi amici questo era il mio unboxing di oggi o sarei dire il mio mega unboxing di oggi fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento scritto con un mi piace al prossimo video e come vi dico sempre ma che cosa è ok ok